ciao crazy family come va siete pronti per una nuova storia horror della buonanotte beh mi auguro che lo siate perché io sono pronta a raccontarvela la casa senza fine era una casa infestata e teatro di molte sfide la sfida prevedeva che chiunque partecipasse dovesse superare nove livelli o meglio nove stanze senza uscire prima della fine superate tutte nuove le stanze il partecipante avrebbe vinto il premio in pallio in denaro ovvero 500 dollari un uomo decise di tentare di vincere questi 500 dollari perché il periodo per lui non era dei migliori e di quei soldi aveva veramente bisogno arriva sul posto si iscrive e poco dopo arriva al suo turno quelli prima di lui avevano abbandonato la sfida ora toccava a lui era il suo momento siete pronti si parte che la sfida abbia inizio la porta numero uno si aprì davanti a lui in quella stanza vide diverse ombre ombre di oggetti l'unico problema era che la stanza era vuota non ci fece nessun problema e proseguì andando nella seconda stanza quella era completamente buia e in assoluto silenzio a terra al centro del pavimento c'era disegnata una croce la raggiunse e vi si mise sopra e all'improvviso iniziò a sentire un rumore boom 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 era il suo cuore poteva sentire il battito del suo cuore risuonare in tutta la stanza la sensazione gli risulta strada ma anche in un certo senso emozionante proseguì terza stanza nella terza stanza c'era un materasso nulla di strano pensò andò si avvicinò e vi si chinò sopra ad un tratto si accorse che sopra di lui c'era una botola non fece in tempo a realizzare la cosa che questa si aprì e si ritrovò coperto di sangue e vermi che schifo pensò ma questo non mi fermerà si alzò e proseguì verso la quarta stanza il nulla cosmico niente solo un respiro e una voce la voce di un uomo che si avvicinava sempre di più a lui questa voce continuava a ripetere di non entrare nella quinta stanza ovviamente lui ci entrò quinta stanza c'è una bambina vestita di bianco e con i capelli biondi raccolti in due codini che le cadevano sulle spalle lo stava fissando lui non capiva ma d'un tratto la bimba gli disse lui te l'aveva detto di non venire qua lui chi rispose l'uomo la bambina sorrise e indicò qualcosa esattamente dietro di lui appena l'uomo si girò sobalzò in un angolo c'era un uomo legato ad una sedia con degli aghi conficcati nel viso cosa stava succedendo decise di correre nella stanza successiva la cosa iniziava a non piacergli più sesta stanza un mattatoio decine e decine di maiali appese al soffitto e sgozzati c'era un odore nauseante l'attraversò senza guardarsi intorno e arrivò alla settima stanza sono all'inferno questo pensò nella sua testa c'era fuoco fuoco ovunque e per arrivare alla penultima stanza doveva attraversarlo si ricordò che nel suo zaino aveva una bottiglietta d'acqua non era molta ma decise di prenderla e versarsela addosso per limitare il dolore che il fuoco gli avrebbe provocato ce la fece ottava stanza un'ombra nera pareva quasi un'entità un fantasma perché l'immagine non era ben definita questa ombra disse solo una frase vai e salvali l'uomo non capì ma ascoltò quella strana cosa e andò verso la nona ed ultima stanza aprì la porta e quello che vide gli fece letteralmente gelare il sangue non è possibile mamma papà cosa ci fate qui perché siete coperti di sangue no non posso farmi fregare così è solo un gioco non sono realmente loro è solo la mia mente che gioca brutti scherzi se esco da qua avrò vinto l'uomo aprì la porta e uscì era in giardino finalmente era finita aveva vinto prese i suoi soldi e fece per andare a casa quando un ragazzo gli disse ehi tu lo sai vero che di quei soldi non ne avrai più bisogno lui non ci fece molto caso e si avviò verso casa non stava molto bene era intontito come se avesse bevuto ed era senza forze dopo quasi un'ora di strada finalmente l'uomo arrivò parcheggiò l'auto e si diresse a piedi verso l'entrata del suo appartamento inserì la chiave sbloccò la serratura e quando fu il momento di entrare si accorse che sulla porta di casa sua era inciso il numero dieci in quel momento realizzò che da quel gioco non ne sarebbe mai uscito livello numero dieci riesci a uscire dal gioco ok ragazzi eccoci qua che pensate di questa storia di questa casa di questa sfida di questo gioco voi siete in grado di partecipare a una sfida del genere io credo che io non ce la farei no non mi scriverei nemmeno ve lo dico sinceramente ditemi qua sotto nei commenti se questa storiella della buonanotte vi è piaciuta e quindi come sempre io vi chiedo di lasciarmi un bel like se vi è piaciuto il video altrimenti lasciatemi un dislike a me non cambia la vita perché lo faccio per far divertire voi e per divertirmi io e soprattutto iscrivetevi al canale perché tanti guardano il video ma non si iscrivono vabbè piccolo particolare che dire ragazzi l'avete messo il pigiama non ancora forza che aspettate mettetevi il pigiama andate a letto tiratevi su le coperte chiudete gli occhi fate tanti bellissimi sogni buonanotte ok ok Grazie a tutti